L'incidente in via Fratelli Rosselli, frazione Salto, a Quarnier, nella giornata del lunedì primo gennaio, intorno alle 16. Una ragazza ha perso il controllo dell'amico Carl Iger che stava guidando, che ha terminato la sua corsa contro l'Unparo. A bordo della vettura con lei c'erano altre due persone. Tutte e tre gli occupanti hanno riportato solo alcune contusioni e, dopo le prime cure da parte della Croce Rossa intervenuta, sono stati trasportati al punto di primo intervento di Quarnier per controlli. La dinamica del sinistro è il valido dei carabinieri di Quarnier.